Pompei è davvero uno scrigno di tesori che non finisce mai di sorprenderci e di destare stupore perché ogni volta che scaviamo troviamo qualcosa di bello e di significativo. Noi crediamo in questo unicum mondiale che rappresenta Pompei e per questo in legge di bilancio abbiamo finanziato nuovi scavi. Bisogna andare avanti nella tutela di questo importante sito ma anche nella sua valorizzazione. Le pareti erano nere per evitare che il fumo delle lucerne si vedesse sui muri. Dunque qui ci si riuniva per celebrare dei banchetti dopo il tramonto e la luce tremolante delle lucerne faceva rivivere le immagini, si muovevano. Erano delle occasioni per parlare del passato, del mito ma anche della vita delle persone che stavano qui. Vediamo Elena e Paride chiamato Alessandro nell'iscrizione con un altro nome ed era un'occasione per parlare dell'amore, della coppia ma anche della grande storia che coinvolge questi due che sono la causa o forse anche solo il pretesto della guerra di Troia. Dunque oggi noi tutti siamo un po' Elena e Paride nel senso che possiamo decidere di vedere solo la nostra piccola vita o di indagare su come questa vita si intreccia con la politica, con la società, oggi sicuramente anche con l'ambiente e come le nostre scelte quotidiane incidono sulla grande storia. Grazie a tutti.